Acqua Novara VCO è il gestore del ciclo idrico integrato nel Piemonte Orientale. La nostra visione è intimamente collegata alle tematiche di sostenibilità. Gli obiettivi di decarbonizzazione, di adattamento al cambiamento climatico, di uso efficiente delle risorse, sono per noi il punto di riferimento. Schneider Electric, in questo preciso punto di vista, è il nostro partner ideale perché ci sta consentendo di fare dei passi in avanti verso il raggiungimento di questi obiettivi e soprattutto nell'uso efficiente delle risorse. Il rapporto con Schneider Electric è ormai decennale ed è iniziato quando Acqua Novara ha avviato il progetto per creare un sistema di telecontrollo su tutta la rete. Per arrivare al risultato abbiamo scelto di adottare EcoStractor GeoScada Expert di Schneider Electric accompagnata da un revamping degli impianti che ad oggi ha consentito di integrare nel sistema di telecontrollo 900 punti critici della rete su 1100 complessivi. Grazie a questa scelta ci siamo mossi in anticipo per rispondere a quelle che oggi sono diventate le esigenze imposte dall'autorità di settore, ARERA, ed anche all'evoluzione dello scenario normativo e di finanziamento europeo che richiedono alle utility del mondo idrico di avere sistemi digitali di raccolta e rendicontazione dei dati. Più di recente la nostra azienda ha iniziato a ragionare su come trasformare la crescente mole di dati in informazioni utili per innovare in modo sostenibile anche altri aspetti del nostro business. Sicuramente le perdite idriche sono il tema più rilevante. Il trend al momento sta diventando positivo. La riduzione avrà un notevole incremento grazie all'applicativo EcoStrat Water Loss di Schneider Electric che permetterà di continuare su un percorso sostenibile ed efficiente.